Un messaggino in codice su Facebook o Instagram o semplicemente WhatsApp con scritto caffè e partiva la macchina dello spaccio con l'appuntamento classico dato da spacciatori minorenni ad acquirenti minorenni quasi tutti studenti tra Parco Fluviale ed altri luoghi del centro storico a Teramo come Piazzetta del Sole ma anche Piazza Garibaldi, Piazza dei Caduti di Nassiria e Piazzale San Francesco. A ricostruire il sistema è stata l'inchiesta durata un anno e che confluita oggi nell'operazione Quei Bravi Ragazzi con cui i carabinieri coordinati da Procura di Teramo e Procura dei Minori dell'Aquila hanno eseguito 13 arresti tra cui un 17enne teramano incensurato e hanno sequestrato circa 6 chili e mezzo di droga principalmente hashish ma anche cocaina per un valore complessivo sul mercato di oltre 40 mila euro su 15 persone indagate 9 sono teramane, 1 è marocchina, 1 è gambiana e 1 è nigeriano. L'accusa per tutti è concorso in detenzione e spaccio di sostanze superfacenti, per alcuni c'è l'aggravante di aver commesso lo spaccio nei confronti di minori. Nel corso dell'esecuzione delle varie ordinanze di custodia cautelare all'atto delle perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno trovato oggi 3 chili e mezzo di hashish in casa di un teramano e altri 600 grammi di hashish nell'abitazione di un altro soggetto che è stato così arrestato in flagranza di reato. A dare avvio l'inchiesta è stato l'arresto quasi un anno fa di uno studente teramano di 17 anni che era stato trovato dai carabinieri con mezzo chilo di hashish. Pedinamenti, appostamenti, testimonianze e intercettazioni si sono sommate all'acquisizione dei filmati di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Le indagini ora proseguono, riflettori puntati sull'Aquila e su Roma ma anche sui comuni limitrofi al capoluogo teramano per ricostruire nel dettaglio la fonte di approvvigionamento della droga. Novità di questa inchiesta è proprio il ruolo dei ragazzi minorenni, non più semplici acquirenti di dosi ma spacciatori e rifornitori di droga. 36 in tutti gli episodi di spaccio certificati in un anno dai carabinieri di Teramo.